In collaborazione con www.votacoppo.com il blog di Marcello Coppo L'altra notte in via Artom a poche decine di metri dalla stazione e di fronte al parcheggio Babilano una banda di ladri ha svuotato buona parte di un supermercato. Sono entrati nel vano scale del condominio, scesi in cantina ed hanno sfondato una parete del magazzino di generi alimentari. Molto probabilmente sono rimasti all'interno indisturbati per più ore ed hanno potuto scegliere i generi alimentari e di liquori più costosi e facilmente ricettabili. Il furto è stato scoperto solo al mattino all'apertura del negozio. Il valore della merce sottratta sarebbe di almeno 10.000 euro. Ed oggi a San Paolo Solbrito si sono tenuti i funerali di Nicola Moro, 53 anni, commerciante all'ingrosso di prodotti ittici, assassinato nella notte di venerdì 16 settembre. Alla cerimonia religiosa funebre erano presenti due figli avuti in Germania dalla prima moglie e i numerosi parenti provenienti da Mesagne in provincia di Brindisi, suo paese natale. La salma è stata tumulata nel cimitero di San Paolo. L'uomo era stato trovato agonizzante in un boschetto vicino al casello di Villanova d'Asti dell'autostrada Torino-Piacenza. Rantolante e probabilmente giudicato già morto dai suoi aggressori, l'uomo evidentemente non ha potuto rivelare cosa sia accaduto quella notte. Le indagini dei carabinieri per identificare l'assassino e gli eventuali complici non sono dunque semplici. È stato appurato che il Moro uscì di casa alle 21 della sera del delitto mettendosi alla guida di una Peugeot 206 di colore azzurro di proprietà della convivente. Per il momento l'auto non è ancora stata trovata e neppure si conosce il luogo in cui è iniziata l'aggressione. Si spera di avere maggiori indizi anche dai risultati dell'autopsia eseguita dalla dottoressa Rita Celli. La programmazione, i rapporti con le società sportive, i servizi alla collettività e soprattutto l'impiantistica sportiva sono i suggerimenti per i futuri amministratori della città di Asti emersi dal dibattito di ieri sera sulle politiche da riservare allo sport. La sala del consiglio provinciale era gremita con numerosi dirigenti di società, gestori di circoli ed impianti, allenatori, atleti, medici, giornalisti ed addetti ai lavori. Organizzato dal gruppo Noi per Asti nel corso della serata, Mariangela Cotto ha sollecitato i suggerimenti partendo dagli interventi di due ex assessori allo sport. Ferrante Marengo, in carica tra il 1988 e il 92 nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Luigi Florio e il suo successore Giuseppe Passarino, assessore nella giunta di centrosinistra con il sindaco Vittorio Voglino. Tra le iniziative realizzate e quelle incompiute negli ultimi 15 anni dal comune di Asti, la massiccia adesione all'incontro ha fatto emergere la volontà di un confronto costruttivo fra gli astigiani impegnati nelle attività sportive. In particolare la città lamenta forti carenze nell'impiantistica con la statistica del sole 24 ore che relega Asti all'ultimo posto in Italia e con 5 istituti scolastici superiori su 9 senza una palestra. Molti gli interventi del pubblico, fra cui quello del presidente provinciale del CONI, Piercarlo Molinaris. Il prolungarsi della posa della prima pietra del palazzetto dello sport, la mancanza di una seconda piscina coperta e come detto l'assenza cronica di palestre per le attività invernali ed anche la scarsa ricettività alberghiera per ospitare 20 sportivi di alto livello sono gli aspetti su cui si recrimina maggiormente e si sollecitano le istituzioni. In un momento certamente non facile dal punto di vista economico, dalle conclusioni tracciate da Massimo Padovani è emersa chiara la volontà di unire maggiormente il mondo dello sport astigiano e di trovare soluzioni nella consapevolezza che l'attività sportiva è sempre più presente nella vita della popolazione, dai bambini ai giovani agli anziani. E a Canelli dal lunedì prossimo 3 ottobre al club agrisportivo di Regione Dota ricominceranno gli incontri dell'amministrazione comunale con la popolazione. Vogliamo conoscere direttamente le problematiche della vita quotidiana dei nostri concittadini, ha detto il sindaco di Canelli Marco Gabusi. Saranno delle vere e proprie giunte itineranti con la possibilità per i canellesi di interloquire direttamente con il sindaco e con tutti gli assessori. Gli incontri si terranno settimanalmente nelle varie zone della città tutti i lunedì sera di ottobre e novembre fino al 5 dicembre prossimo. E con questo da Asti anche per oggi è tutto, grazie per l'attenzione ed arrivederci ai prossimi collegamenti. In collaborazione con www.votacoppo.com Il blog di Marcello Coppo